E' spuntato! Ciao, chi sei tu? Sono Maccio Capatonda, no sono Marcello Marcello, perché parliamo di Marcello oggi? Sì, parliamo di Marcio, di Marcello, di tutti Di Mariotti, di Mariotti, fa un girino, gira con me, gira con me, gira con me, gira ancora Ancora, 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 andiamo, andiamo, andiamo Allora, penso Marcello, ce lo stiamo Conoscendo, è un uomo che si fa veramente il mazzo, che fai? Raccontaci, io faccio un po' di tutto Oltre a girare attorno a questo tavolo, ti facevo vedere, che ci piace tanto, abbiamo deciso di girare Intorno, siamo agli studenti, io vivo, diciamo, nel mio mondo, nella mia sfera, nella quale E ci metto dentro una serie di cose, tra cui... Su questo pianeta? No, su questo pianeta, però è comunque una bolla E la bolla è costituita dalle mie varie attività, che mi distanno... Che sono, diceli Che sono... Pronto, uno! Muratura! No, 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 muratura no, scrittura Peccato, se no ti chiamavo come muratura... Perché so scrivere, scrivo delle sceneggiature per i video Che poi faccio... Super! Poi faccio... Direttore! Regi che sarebbe direttore! Regista! Poi faccio... Attore! E non solo uno, ma anche due, tanti personaggi tra l'altro Con parrucca, styling, abbigliamento e tante interpretazioni varie Che decidi tutto te! Che decido io, nel mio piccolo... Sì, la notte... In quel mondo! E decido! Poi faccio... Montaggio... Sì! Dopo... Dopo le riprese... Cioè... Quello che abbiamo fatto Lo monto insieme al computer, perché sono anche bravo con il computer Tutto sa fare questo uomo! Vieni! Faccio così, col computer e monto Poi faccio... Il doppiatore... Faccio lo speaker, ma senti... Lo senti? Lo senti? Sì! A questo programma! E poi... E poi faccio... Basta! Finito! Basta! E poi vivi, no? Faccio niente! E poi... No! No! Ecco! Non ci rimane nulla! Nulla! Voi pensate... Perché sto sempre... Eh, voi pensate che il mondo dello spettacolo Uno, in realtà... Ma questo sta sempre qua, per questo siamo intorno a sto tavolo Sta chiuso qua, in sta stanza! È venuta lei a stanarmi! A stanarmi! Io sono come un topo! Un topo di laboratorio! E faccio tutte queste cose qua, però alla fine dei conti È l'unica cosa che posso fare Cioè, che mi realizza, che mi piace È un lavoro... Mi sento fortunato nel farmi questo... Questo Q! Benedetto culo! Questo culo! Senti, ma questo farsi il mazzo, secondo te, è anche un atteggiamento, chiamiamolo così, anticrisi? Cioè, di veramente, appunto, volere quello che si vuole e poi si può ottenere? Beh, io l'ho sempre fatto, anche quando la crisi non c'era Quindi sempre Quindi... Non ho... Non ho sentito Però si possono ottenere, no? I propri sogni, i propri disidenti Fai, credi in te stesso E vedrai che tutto ti tornerà bene Però ti fai anche il culo Sì, fatti il culo Credi in te stesso Non mollare mai i tuoi sogni E continua a sognare Perché un giorno c'è la speranza anche per me Allè, gira Un tuo desiderio? Un mio desiderio Attualmente Un desiderio è riuscire a fare un film Oh, tanti auguri! Perché ho sempre fatto video più corti così Invece lo vorrei fare lungo così Almeno E noi li seguiamo fino alla fine Sì, però per farlo come... Ho delle possibilità Ma non so dove andare a scegliere i personaggi E ci dovete aiutare voi allora Scrivetelo Scrivete Alla mail Mandateci le vostre idee Così io le prenderò E le butterò via E però facendolo Capirò quale voglio io fare Giusto Perché comunque loro aiutano anche a capirci meglio A noi pazzerelli Sono anche molto bravo nella dialettica È vero, ho notato Sei bravo Sei un dialetto Sei un dialetto Di dove sei tu? Sono abruzzese Oh, diciamo Abruzzese Terra di mezzo Terra di mezzo Allora siamo a nord e sud Io sono super polentona Di dove? Friulana Del paese di Pasolini Io non ci sono A me l'ho mai arrivato No No, perché sta troppo sopra Io invece in Abruzzo Sì, sono arrivato Sono sceso Perché scendere è più facile È facile scendere Certo Per farvi risalire però Per farvi risalire E ti invito Ci vieni su? Un giorno Sì Dove? Dove sei? Trieste Casarsa della Delizia Provincia Pordenone Pordenone Allora così Come parla? Pordenone Bello E in Abruzzo come si parla? Eh, in Abruzzo Tipo così Tutto un po' così Un po' così Un po' chiuso Sì, cioè Alla fine Vieni in Abruzzo Ti mangi gli arrosticini Buoni E si contenta Allora Facciamoci il mazzo E mangiamo gli arrosticini Facciamoci il mazzo Ciao Baci da la Simo Bacio da Maccio Ciao